Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo primo concerto perché è l'inizio di una stagione concertistica è un servizio che credo sia importante per il nostro paese, per la nostra comunità perché far cultura è primario oggi rispetto a tutto il resto, quindi ci sentiamo coinvolti in prima persona come parrocchia, come comunità di Montevarchi e quindi siamo stati molto felici e contenti di accogliere la proposta del maestro Diva che insieme al suo gruppo si è reso disponibile per organizzare e gestire questi incontri. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti